Musica Sul territorio d'Achiarnia, dal periodo di Nadal 2020, il servizio sociale dei comuni ha pensato di proporre il progetto chiamato un Natale di comunità, domandando a tutti di creare un gugetto, con qualsiasi materiale che si veste in casa. Il gugetto fa parte della tradizione popolare di Cerniera, veniva droppato per proteggere le femmini quando lavoravano a Guglia, e con molte cose che sono state fatte. Soprattutto per ieri, la nostra vita di un gugetto, il servizio sociale delle caratteristiche di Cerniera e le direncizioni delle caratteristiche di Cerniera, e le direncizioni delle caratteristiche di Cerniera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.